E vabbè, d'accordo, dirai tutto a Cristin. E a che cosa ti servirà? A forti del mare. Che animo generoso. È ingiusto che soffra solo io. Soffrire in due invece è meno noioso. E poi, voglio vedere la faccia che farai quando Cristin ti lascerà. Perché lei ti lascerà se io parlo. È un discorso che non fa una grinza. L'ami davvero, eh? E me non mi ami più. Ma perché non cambiamo discorso? Questo mio ruolo di paride senza la mela non mi si addice. È ridicolo. Rispondimi, ti prego. No, non ti amo più. Sento dell'affetto per te. Ma... Ma ti annoio. Oh, ti annoio. Che strane parole, Uri. È la parola esatta. Rinuncio a lottare. Si lotta contro l'odio. Ma contro la noia non c'è niente da fare. Grazie. Oh, del resto anch'io cominciavo a trovare il tutto un po' noiolto. Quando ti vedo fare lo svenevole con la tua viennese, mi viene da sbadigliare. Me ne vado. Sì, vieni, vieni. Credo che sia molto meglio. Sì, me ne vado. Ma voglio che tu mi dici addio in modo carino. Addirittura addio. Arrivederci, è molto meglio. No, 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 no. Addio. Ma un bel addio. Per qualche istante vorrei che fossimo tutti e due come qualche anno fa. Quando Cristina ancora non esisteva. Voglio che tu mi prenda fra le tue braccia come facevi lui. Io chiuderò gli occhi. E per qualche istante potrò credere tutto quello che vorrò. Genvieve, non fare così. No, no, non parlare più. Baccia. Andiamo. Aspetta dove mettete i piedi, si può affondare. Oh, straordinario. Oh, un anastroccolo. Si potrebbe raccontare le fiume. È sparito, voi lo vedete? No, guardate voi, Cristina. Grazie. Due dita a destra di quel pioppo. E tre perché le vostre sono più piccole. Oh, eccolo. No, aspetta. Oh, quanto è carino. Su, adesso tocca a me. Un momento. Ma vuoi tenerlo sempre tu. Chi c'è? Hai scoperto qualcosa di tanto interessante? Sì, molto interessante.